Prosegue la campagna vaccinale nella nostra regione contro il covid-19 dopo la prima fase dedicata al personale sanitario che però ha coinvolto anche il personale amministrativo e non sanitario operante in ambienti ospedalieri. La prima fase è ancora in corso ma l'arrivo dei nuovi vaccini AstraZeneca ha di fatto aperto la fase numero 2. Abbiamo in collegamento proprio dall'assessorato regionale alla sanità la nostra Giliola Edmondo. Dunque Giliola la Commissione Tecnica Regionale al lavoro per definire tutti i dettagli? Sì buonasera Fabio, buonasera a te e a tutti coloro che ci stanno seguendo su Rati8.it. Come dicevi tu ci troviamo all'interno del Dipartimento Salute della Regione Abruzzo e via Conte di Ruva Pescara con Andrea Berardinelli. Si è da poco conclusa la riunione della Commissione Tecnica preseduta dall'assessore regionale alla sanità Nicoletta Veri. C'era ovviamente anche il direttore del Dipartimento Claudio Damario. Domani è prevista la riunione della conferenza Stato-Regioni per un confronto con i ministri Boccia e anche con il ministro della Salute Speranza. Prima della riunione, appena si è conclusa la riunione, siamo riusciti ad intervistare il direttore del Dipartimento Damario e siamo pronti anche per mostrare il contributo filmato. Dottor Damario, dunque questa è una settimana cruciale per quanto riguarda le vaccinazioni anti-Covid. Sì, diciamo che noi siamo già pronti, però il gruppo regionale di coordinamento è in attesa e anche adesso è in fase attiva, in piena discussione. Il piano che era stato avviato circa un mese fa è che necessiterà sicuramente di una rimodulazione che dipende essenzialmente dalla disponibilità dei vaccini Pfizer e Moderna, ma anche dall'ingresso nella situazione di immunizzazione anche di AstraZeneca, che come sappiamo ha un target diverso dai primi due. E quindi aspettiamo nella serata di oggi e nelle riunioni successive che ci saranno domani e dopodomani per avere anche un aggiornamento della lista di priorità. Quindi noi siamo in attesa di questa nuova lista per rimodulare anche le fasi successive del piano regionale. Quindi questo significa che potrebbe slittare la vaccinazione che dovrebbe partire il 15 febbraio per gli over 80 anni e per le altre categorie che erano previste? No, la vaccinazione non slitterà. Quello che cambierà però sarà l'elenco delle priorità, perché come sappiamo in base a queste disponibilità cambiano i criteri per il reclutamento. Quindi siamo in attesa di queste ultime definizioni. Nel bollettino proprio diffuso oggi dall'assessorato regionale alla salute si registrano 184 nuovi positivi, 5 decessi, diminuiscono i pazienti ricoverati e aumentano i guariti. Proseguono gli screening a livello regionale, stanno avendo ottimo riscontro tra la popolazione. Oggi il direttore generale della ASL, Lanciano Vastocchietti, Thomas Schell, per quanto riguarda l'area metropolitana esprime qualche preoccupazione. Ma qual è la situazione sul territorio regionale? La situazione è monitorata costantemente sia dall'area dei servizi dei flussi della regione Abruzzo e sia dal gruppo tecnico scientifico regionale che si riunisce ogni 48 ore ed esegue un monitoraggio sui casi attivi e fa il confronto fra i casi attivi e la popolazione residente. Perché come ben sapete quando c'è un superamento di un certo cut off le comunità che si trovano in quella situazione vanno automaticamente in zona rossa. Quindi c'è un continuo monitoraggio anche della percentuale di incremento delle positività. Dunque questo il direttore sanitario Damario. Ringraziamo Gigliola Edmondo per il contributo. Se non hai altri elementi da aggiungere, possiamo salutarci qui? Sì, certamente. Poi comunque continueremo ad aggiornare tutti i nostri telespettatori sia tramite il TG8 che sul sito retiotto.it sugli ulteriori sviluppi che ci saranno sicuramente nella giornata di domani al massimo entro mercoledì. Grazie ad Andrea Berardinelli. Io ti restituirei la linea. Grazie.